faremo eppurazione totale con tanto di anonazio memoria di tutti i denigratori e dirigeremo un tempio alla nostra meravigliosa radiosa e gloriosa Dea nel quale si celebrerà ogni 15 di gennaio la suprema festa nazionale ovviamente trasmessa a reti unificate oggi l'Italia, domani l'Europa e poi sul di lei impero non tramonterà mai più il sole perché è la stessa è la luce della civiltà Georgia Imperatrix Mundi